Buonasera a tutti amici di Domi Digital e ben arrivati in questo nuovo video Questa sera vi parlo di Score Rush Già ne abbiamo parlato in tutti i canali In Telegram, in X, ecc Di Pookie che praticamente si trasforma in Score Rush Il gioco praticamente rimane sempre lo stesso Come base, è un gioco di previsioni calcistiche Ma cambia identità e diventa Passa da web app a un gioco mobile Disponibile per Android e iOS Trovate il link qui sotto in descrizione Dal quale potete scaricare il gioco sul vostro telefono E potete iniziare a giocare Vi ricordo, se siete ex giocatori di Pookie Di registrarvi con la stessa mail In modo tale da semplificare il passaggio Se non sapete di che cosa sto parlando Come funziona il passaggio da Pookie a Score Rush Ne abbiamo parlato in un video In cui spieghiamo nel dettaglio Come si effettua il passaggio E come avviene praticamente il passaggio Dai giocatori che giocavamo Da noi giocatori che giocavamo a Pookie A come vengono convertiti quegli NFT Vengono bruciati Vengono praticamente creati dei Score Rush doll Che praticamente vengono dati sul vostro nuovo gioco Che è Score Rush Vi arriva sostanzialmente tramite mail Vi arriverà un codice che è segreto È vostro, personale Verrà inserito sull'applicazione Score Rush Che vi accrediterà dei dollari di Score Rush Con i quali potete acquistare i nuovi NFT E quindi convertire le Pookie, le stickers e quant'altro Che avevate su Pookie Portarli su Score Rush Sostanzialmente in questo periodo Su Pookie si può ancora giocare Si può ancora acquistare Pookie Ball Sticker e quant'altro Il mio consiglio è In questo momento Se volete investire in futuro su Score Rush E quindi la versione definitiva Arriverà circa per metà agosto Probabilmente questo è il momento Per acquistare ancora qualcosa su Pookie Che poi verrà sopravvalutato Praticamente nel gioco Score Rush Quindi sostanzialmente Oggi si compra una Pookie Ball Con la quale potete giocare Ancora per poco su Pookie Quella Pookie Ball Gli viene dato un valore in Score Rush Dollar Quindi S, R, D E sono dei dollari con i quali potrete acquistare Poi i Pass League Nel gioco Score Rush Se non sapete bene Potete salvare maggiori info Su i Pass League Che cosa sono Come avviene il passaggio E le valute Come vengono valutate E quant'altro Ho fatto già un video Descrittivo Che descrive il gioco Se avete altri dubbi Venite a trovarmi su Telegram Oppure scrivete pure qui sotto Nei commenti E ne parliamo abbondantemente Tutto il tempo che volete voi Eccoci qui in Score Rush Ovviamente non potrò farvi vedere il gioco Perché come vi dicevo E' praticamente sul telefono Quindi è disponibile sull'app mobile Ma vi farò vedere delle immagini Parleremo di cos'è Di come funziona E magari analizzeremo anche qualche dettaglio Del passaggio Allora quindi come vi dicevo Al momento Score Rush E' un free to play E' completamente gratuito E siamo in una fase di transizione Quindi al momento Se vi registrate Potrete cominciare a ottenere I vostri primi Pass League Cominciare a fare le prime revisioni E cominciare a comprendere il gioco Da metà agosto in poi Verrà introdotta una versione A pagamento Ma la versione gratuita I vostri progressi Nella versione gratuita Rimarranno attivi Ci sarà una sorta di flag In alto nell'applicazione Che si potrà switchare Tra applicazione free to play Applicazione a pagamento A pagamento si intende Che i vostri Pass League Potrete acquistarli E finalmente scegliere di acquistare Il Pass League della Lega Che voi desiderate Non avere più problemi di energia E quindi ad esempio Siete appassionati del calcio italiano Vi comprate la Pass League Del calcio della Serie A Con questa potrete fare Le previsioni di tutte le partite di Serie A Senza più preoccuparvi Della giornata In cui c'è l'infrasettimanale Quindi magari Ci sono più partite E quindi dover scegliere Sul quale giocare Se l'infrasettimanale O nei weekend Con questa nuova funzionalità Il Pass È appunto Un Pass Che vi dà Accesso illimitato Alle partite di quella Lega Ovviamente si possono comprare Illimitati Pass Di tutte le Lega Che desiderate Di varie rarietà Rarità E in base a rarità Avrete praticamente Ovviamente Dei vantaggi E quindi Score Rush Appunto È un vero e proprio Gioco di pronostici calcistici In cui i giocatori Si sfidano Con Tra amici Compagni Colleghi E soprattutto Nella nostra community In cui creeremo Tornei E Praticamente Varie tipi di iniziative In cui metteremo in palio Anche Dei Lick Pass Vediamo Di fare qualche iniziativa Come già abbiamo fatto In passato Con Puki Che adesso è Score Rush Ogni settimana Ci sarà una classifica Settimanale Ci sarà una classifica Settimanale Una mensile E una della season Ma se entrate nel gioco Già vedete Che questa fase Già è attiva Quindi in base A queste classifiche Ci sono vari premi E quindi avere più possibilità Di andare a premio In quella settimanale Ogni settimana Al termine Della settimana Calcistica Verranno distribuiti Praticamente I premi Più in alto Più in alto Ci si posiziona E più ovviamente I premi saranno elevati E ci sarà Anche la classifica Mensile E ci sarà La classifica Dell'intera stagione Di quel campionato Ma Quindi Come abbiamo detto Possiamo Praticamente Scegliere I campionati preferiti Qua vediamo ovviamente La Champions League La Premier League La Liga Spagnola La Bundesliga La Liga An Campionato Argentino Brasiliano Campionato Giapponese Euro Come è successo Come è stato adesso Praticamente I principali I principali Campionati Europei Ah Senza dimenticarci Delle MLS La J1 League Giapponese E spero di non essermi Dimenticato Di nessun Campionato principale Come vi dicevo Praticamente Si potranno fare Le previsioni Quindi mettere I vari risultati Nelle partite In base A se si becca La vincente O il 1x2 Si otterranno Dei punti E si potranno Ci sono tante funzionalità All'interno Ad esempio Se becchiamo Un risultato esatto Otteniamo Uno sticker Di quella Delle squadre Di entrambe le squadre Della partita Che abbiamo beccato Il risultato Che ci darà Una percentuale in più Verrà attaccata Al nostro pass E ci darà Una percentuale in più Più volte Si beccherà Il risultato Di quella squadra Più ovviamente Quel bonus Crescerà E ci si possono Ci sono dei box Che si possono Acquistare O vincere Nei quali Ci sono Dei Dei booster Che possono essere Praticamente Collegati Alla previsione In modo tale Da aumentare Il punteggio Vanno usati Con attenzione Vanno usati Con parsimonia Perché quei Booster Praticamente Vi permetteranno Di fare più Punteggi Ma sono Praticamente Usabili Quindi Una volta Utilizzati Non potranno più Essere utilizzati Ad esempio Il booster Casa Se gioca Inter La metto lì Salernitana L'inter in casa È fortissima Quindi in quel caso Magari vado a mettere Il booster Home In modo tale Da aumentare La mia percentuale Nel caso Di risultato Che finisca con uno Ci sono gli over Ci sono gli under Ci sono gli extra coin Cioè veramente di tutto Questo è un esempio Bot score Ci sono i bonus di coin Come vi dicevo I risultati esatti Cioè veramente Di tutto e di più Queste cose Già sono Come vi dicevo Già disponibili Le potete vedere Assaggiare Toccare con mano Nella versione Free to play Che al momento È già disponibile C'è una figata Pazzesca Che prima non c'era In pochi Che sono le rivals Le rivals Già l'abbiamo Utilizzati In Euro 20-24 Facendo la possibilità Di creare Un Torneo Privato Un torneo Oppure pubblico Nella quale ci si può sfidare Con gli amici O ci si può sfidare Nella community Come per esempio Abbiamo creato Un torneo Recentemente Per Euro 20-24 In cui a noi creator Score Rush Ci ha dato Dei premi Ci ha fatto mettere In palio Dei premi In base al numero Di partecipanti Il numero di premi Aumentavano Noi abbiamo toccato Praticamente la soglia massima Dei partecipanti E quindi ottenuto In massimo Dei premi Questi premi Per chi Si trova Nelle prime 20 posizioni Della mia Lega Nell'Euro 20-24 In questa occasione Vi dico Che bisogna attendere Perché Essendo che i premi Vengono dati In Score Rush Dollar Questi dollari Attualmente Sono praticamente Inutilizzabili E ancora non sono All'interno Dell'applicazione Vi verranno dati Il momento Del lancio Della versione A pagamento Quindi presumibilmente Per metà agosto Quindi ragazzi Ci siamo quasi Ci siamo quasi L'attesa è quasi finita Quindi come vi dicevo Si possono ottenere Tantissimi risultati Nei coin Nell'XP Delle box Cioè veramente Ragazzi È un'applicazione Veramente Si sono veramente Veramente Secondo me Superati Secondo me Stiamo parlando Della frontiera Delle previsioni Dobbiamo sempre Immaginare Che Nel Web3 Io reputo Tantissima Tantissima fiducia Le previsioni Calcistiche Loro sono stati I primi A introdurre Le previsioni All'interno Di un Concetto Web3 E Da un lato È veramente Una svolta La stessa Pensate Io la penso sempre In una maniera Faccio l'esempio Che già ho fatto Tante volte Nelle mie live Eccetera E l'esempio è Noi giochiamo La schedina Su un determinato Bookmaker Dove andiamo A mettere I nostri risultati Le nostre previsioni Mettiamo Dei soldi E se la schedina Praticamente La perdiamo I soldi Sono persi Qui praticamente A partire Da circa 20 dollari Che a quanto pare È il valore Del pass Di Vi state Ritagliando La possibilità Di Poter giocare Sempre Praticamente Vi sbloccate Praticamente Un campionato A vita E quindi Potrete giocare Sempre Tutte le domeniche Non dovete più Inserire dei soldi Quindi inserire Una volta E poi poter giocare Liberamente Quindi senza Dover investire Un patrimonio Giocare Se siete appassionati Previsioni Quindi prevedere Senza dover Per forza Veramente Investire Un patrimonio E come Vengono effettuati I premi Va detto Anche questo In passato Puki Si basava Sulla rete Polygon E quindi Praticamente I premi Venivano dati In Matic E con Score Rush Questo aspetto Cambia E viene Introdotto Un token E quindi I premi Vengono dati Con questo token Che al momento Non sarà listato E non sarà listato Nemmeno Al momento Del lancio Della Piattaforma Quindi a metà A metà agosto Per intenderci Ma Verranno già Cominciati a distribuire Questi token Verranno dati Nei premi Durante Questi campi Durante il campionato L'intenzione Ho parlato Con Score Rush L'intenzione È di lanciare L'applicazione A pagamento Prima dell'inizio Dei campionati Principali Europei Come dicevo Quindi questi premi Verranno Verranno Distribuiti Nelle varie classifiche Quindi settimanali Mensili Eccetera E Al momento In cui verrà Questo token Listato Il rapporto Di chi Avrà Questo token Già Nella piattaforma Sarà 1 a 1 Quindi Immaginiamo Di avere 5 Aver vinto 5 Token Score Rush Al momento Del lancio Oppure Il momento In cui verrà Listato Questo token Varrà 2 euro Praticamente Avremo Praticamente Il valore Di token A 10 euro Per intenderci Ovviamente Questo È Puramente Un esempio Perché Ovviamente Il valore Lo sapremo Soltanto Al momento Del lancio Dobbiamo Vedere La piattaforma Su cui verrà Lanciato Tanti altri Aspetti Che correremo Nel tempo Quindi Al momento Siamo In una fase Di transizione Ma molto Probabilmente In questa fase Si potrebbero Fare gli affari Quindi come vi Dicevo Il trucchetto Di cominciare Ad acquistare Qualcosa Anche su Pukki Che molti Magari Stanno Abbandonando Magari Ci sono Alcune Occasioni Alcune Offerte Alcuni Che magari Non credono Nel progetto E quindi Abbandonano Le loro Pukki Ball Le regalano Che poi Però Vengono Sopravvalutate Per il passaggio In score Rush Quindi Magari Si può Entrare Forti In score Rush Con qualche Lick pass Magari Di Realità Superiore E magari Posizionarsi Sinta subito A cominciare A farmare Questi Token Nella speranza Che magari Adesso Magari Siamo entrando In una fase In cui Alcuni Sono un po' Incerti Ma però In queste Fasi Di solito Abbiamo visto Che si possono Fare I più Grandi Affari Perché Se poi Dopo Con un Piccolo Investimento Si può Ottenere Un risultato Un grande Risultato Alla fine Ci potrebbe Andare bene Questo ovviamente È sempre Una valutazione Molto Vaga Perché poi Alla fine Bisognerà Vedere Effettivamente Quanto Varrà Il token Al momento Del In cui Verrà Listato Però Stiamo parlando Di un investimento Minimo Veniamo ad altri Giochi In cui Sappiamo Che nei giochi Web3 Una ventina Di euro Oppure Per chi Già È giocatore Puky Si ritrova Già tutto Pronto Come me Ho una galleria Che mi è stata Valutata Da Scorrash Circa 700 Scorrash Dollari Quindi 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 Praticamente Al momento Del passaggio Io Avrò 700 Circa Dollari Scorrash Da poter Inserire In questo Gioco E quindi Cominciare A investire Ma alla fine Non investirò Nulla Io Sto Semplicemente Passando Quello Che ho Su Puky Praticamente Su Scorrash E quindi Giocare Con quello Che già Ho investito In passato Che ho vinto In passato Che ho Rinvestito Nel gioco Puky Io ci credo Perché Già in passato Puky Mi ha sorpreso Perché È stato Uno dei giochi Che poi Alla fine È stato Più ecosostenibile Di tutti Che ha creato Un sacco Di Felicità All'interno Dei giocatori I premi Sono stati Sempre giusti La possibilità Di tutti Di vincere E quant'altro Quindi Veramente Io nutro Fiducia Nei confronti Di questi Dei fondatori Di questa Piattaforma E quindi Io Prenderò I miei Scorrash I miei Sticker E Pukyball Che verranno bruciati In cambio di dollari Li investirò In Scorrash Vedrò Se Da qui Ad agosto Al momento del lancio Riuscirò Magari A trovare Qualche occasione Di qualche Pukyball O qualche pacchetto Di tirarmi dentro Di acquistare Eccetera Eccetera Di fare magari Qualche ascensione E quindi Cercare di aumentare Il valore E quant'altro Se avete dubbi Su valori Eccetera C'è il link All'interno Della lista Puky Oppure venite a trovarmi Su telegram Ne parliamo abbondantemente Nel nostro topic Dedicato Che al momento Si chiama Scorrash Was Puky Ok Quindi ragazzi Mi sono dilungato tantissimo Ci sarebbe veramente Tanto da dire Ho cercato di toccare Più punti possibili In modo da cercare Di dare un'idea Generale Di che cosa Sta succedendo In questo momento E dove stiamo andando E che cosa Si può ottenere Cercando di parlare Ampiamente Liberamente Esprimendo un mio Parere personale E quindi Vi ringrazio Per aver ascoltato E visto questo video Io vi invito A lasciare un like O iscrivervi al mio canale Grazie mille a tutti Da Domenico Di Domi Digital